Questa mattina, nello scenario montano di Prateria, nel comune di San Pietro di Caridane, la piana di Gioia Tauro, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Domenico Pedisano, un giovane operaio di 24 anni. Il tragico ritrovamento ha scosso la comunità locale, lasciando sgomento e sconcerto. Pare che il giovane sia stato vittima di un agguato mentre si trovava all'interno della sua automobile, diretto al lavoro, come ogni mattina. Due spari di fucile hanno interrotto la sua routine quotidiana, segnando la fine prematura della sua vita. Sul luogo del delitto sono giunti prontamente i carabinieri della compagnia di Gioia Tauro e il magistrato di turno della procura di Palmi, guidata dal procuratore capo Emanuele Crescenti per avviare le indagini e tentare di far luce su questo oscuro evento. Al momento nessuna pista viene esclusa e si cerca di individuare il movente di questo omicidio senza senso, nonostante le prime informazioni suggeriscono che la vittima fosse una persona senza precedenti penali. La motivazione di questo vile gesto rimane dunque avvolta nel mistero, ma saranno le indagini a far piena luce.